Buon pomeriggio da Anis, Campo Crozza Polifemo, campionato di promozione, girone B. Per il Milazzo, con numero 1 Bucca, il 2 Salmeri, il 3 Fleri, il 4 Erizzo, il 5 Dall'Oglio, il 6 Parisi, il 7 Cariolo, l'8 Micale, il 9 Rasa, il 10 Allojo e il 11 Maisano. A disposizione di Mister Accetta sono Catalfo, Mogiglio, Iovini, Miroddi, Romeo, Mangano e D'Angelo, il Direttore di Gare, il Signore Andello di Messina, gli assistenti sono Giusalli di Messina e Testai di Catale. Partiti! Bucca, il suo fermato oggi, importa il tiro, la conclusione, sembra che sia Leone a batterlo da quella posizione. Ora Alosi, Alosi ancora, il pallone viene dentro, Micale, Micale lancia il pallone, sottoporta, ancora un pallone, sottoporta, e una paradiglia. Attacca Maisano, vediamo, Rasa, e anche in questo caso Rasa di pochissimo a lato. Poi Maisano che crossa un pallone, sottoporta. E di fatti è Leone che tira. Sull'estremo a destra penso che sia Chisafull. Vediamo un po' il pallone e poi... Alosi! Ciappazzi che ora può un tempo in avanti, cerchere di a tre, la conclusione, lanza, carica il tiro, carica il tiro. Ora si raccusa, scusa il portiere Bucca in uscita e mette in porta il pareggio, uno a uno per Ciappazzi. Per Salmeri, Salmeri, vediamo il pallone, sottoporta, vediamo. Mangano, Mangano, tiro di Mangano. Forza, Giorno, con Goli, con Goli, con Goli, con Goli, con Goli, Mangano, 2 a 1, il dilazzo nuovo in vantaggio. Intanto D'Angelo, D'Angelo, D'Angelo. La confusione a Restelle per l'avanzato D'Angelo. E' bellissimo euro-goal, euro-goal di D'Angelo. 3 a 1, euro-goal di D'Angelo, bellissimo gol il quartiere ad avanti. D'Angelo, 3 a 1, su Gella, la vittoria del città di Milazzo. Gol, 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 D'Angelo. Parte Leone, il tiro parato da Bucca. 2 e 3, finisce qua, finisce qua la gara di oggi a Grotta Polifemo, cioè Ciappaccia, città di Milazzo, 3 a 1 per il Milazzo.